Vai, 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 in realtà assoluta di più a cambiarsi Bene, partiamo con la quinta e benvenuti a restituzione di questa sera Di questa sera, chiaramente, perché noi lo vediamo nel prossimo weekend Senti e sabato tantissimi altri spettacoli per voi Stavate la Cazzo della Porta di Cana, Sassi della Caglia, insomma Ulfani Di tutto di più Quindi, vi stiamo presentando un nuovo gruppo, un gruppo affiatato, giovanino e sorridente Che amica la prima, a cui piacciono le sfide e che sta sempre a mettersi in gioco Dalla passione per il ballo e per il divertimento Con un'esercizione piena di energia, sotto la guida dei maestri Luca e Chica Allora, voi Ecco a voi, i ragazzi del corso di Cubana Intermedio E per voi, è un nuovo rappresentante Allo muchacho della salsa cubana Allo l' epoca Allo l'Adam students Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.